Musica Abbiamo scelto di lavorare con gli studenti di Naba per raccontare la città di Milano perché è in un momento di grande crisi del racconto della città, pensiamo che bisogna ripartire dai giovani. Abbiamo scelto i giovani di Naba perché forse sono tra gli studenti più innovativi e creativi nel panorama milanese. Tutti quanti le persone che lavorano attorno a questa città hanno trasformato un Milano in Yes Milano. C'è la trasformazione dal No al Sì. Tutto all'introvviso diventa bello. Lavorare su un progetto di comunicazione per la città di Milano è stato sicuramente molto più stimolante, molto più interessante. Naba è sulla città di Milano. I nostri studenti sono qua, ognuno di noi ha un pezzetto di questa città. L'identità dei nostri studenti, che noi coltiviamo con grande cura e grande passione durante tutti gli anni che studiano con noi, sono pronte a lavorare per la città di Milano. Una bella sfida per gli studenti. Tutti loro, come nativi o come fuorisede, sono cittadini di Milano. Si sono trovati a rispondere a una grande domanda e a progettare per ragazzi come loro. Questa rivoluzione urbana è una rivoluzione molto intensa, con tante componenti. La prima è l'accelerazione sulla rivoluzione ecologica. Altra cosa, come potete capire, è la mobilità che sta cambiando rapidissimamente. Sono i Citori, sono Giozza, una città a mille volti. Grazie a tutti.